A partire da questo legame che possiamo instaurare tra populismo e sovranità popolare, nel senso proprio di domanda, di richiesta, di partecipazione, che viene anche da canali e soprattutto lo vediamo nel caso italiano che ha una particolarità al di fuori dei partiti, degli schemi classici istituzionali eccetera, secondo me possiamo iniziare a rintracciare delle faglie o quantomeno dei presupposti del populismo che però effettivamente ci potrebbero essere utili proprio al fine di creare consenso. Ovviamente un consenso che deve sempre essere accompagnato dal conflitto però di creare consenso. Allora io ritornerei su Mario Pezzella per cercare di fargli tirare le conseguenze di quanto stava dicendo prima, soprattutto perché se la matrice formale del populismo cerca di tradurre il consenso attraverso i canali della rappresentanza appunto nel corpo del leader carismatico e gerarchico, fraterno e paterno, è possibile per esempio andare oltre questo cortocircuito che comunque anche nella crisi della rappresentanza riattualizza di nuovo il meccanismo della rappresentanza pensando appunto a un'organizzazione del consenso attraverso un altro tipo di istituzione. La domanda è difficilissima che possa rispondere a questo perché sarei a questo punto un genio della politica. Ci sono alcune esperienze, alcune riflessioni, io in genere mi riferisco soprattutto ad Anna Arendt, a un libro che si chiamava sulla rivoluzione e alle esperienze consigliari che lei ricorda in questo volume. Cioè il nodo del discorso è che pensare che il puro assemblearismo possa costituire un'alternativa valida all'organizzazione partitica o a quella populista probabilmente non è vero perché noi abbiamo constatato anche semplicemente per esempio nelle esperienze che sono nate dai forum mondiali ad esempio che si riproducevano proprio sulla base dell'assemblearismo dei fenomeni di liderismo incontrollato che hanno poi portato a dei gravi problemi in quei movimenti. Cioè la mancanza assoluta di regole determina paradossalmente proprio il risorgere del liderismo in altra forma. Cosa intendo per regole? Regole che in qualche maniera danno delle indicazioni sul rapporto tra i deleganti e i delegati cioè tra chi è rappresentante di qualcuno o di qualcosa e quelli che lo hanno eletto. Allora la Arendt ricorda alcune esperienze storiche per esempio quella della Comune di Parigi è vero che la Comune di Parigi è durata solo due mesi ricorda quella dei consigli in Ungheria che sono durati altrettanto poco ricorda le repubbliche elementari con cui è cominciata la rivoluzione americana allora il carattere comune di tutte queste esperienze per quel che può valere come indicazione poi siccome sono stati sconfitti anche questo deve darci da riflettere io non ne posso, questo non si può certamente evitare come un problema secondario però il carattere comune di queste esperienze è di avere stabilito un diritto di aver innanzitutto creato delle istituzioni diverse da quelle partitiche e da quelle parlamentari istituzioni consigliari radicate in luoghi, in quartieri, in luoghi di attività e di avere stabilito delle regole abbastanza precise che naturalmente non evitano in assoluto riproporsi dinamiche di potere e di riderismo ma cercano di contenerle, di contenerla questa dinamica per esempio il fatto che in tutte queste esperienze c'era il diritto di revoca da parte di coloro che eleggevano rappresentante rispetto al rappresentante rappresentante in tutte queste esperienze è vincolato da un mandato imperativo che come sapete invece nel regime parlamentare che noi abbiamo non esiste il rappresentante nostro può cambiare dieci partiti come Scilipoti e nessuno gli dice niente c'è stato un motivo per cui nella Costituzione italiana ma adesso questo sarebbe un discorso troppo lungo diciamo che il momento storico e i pericoli storici sono cambiati oggi oggi abbiamo appunto questo trasformismo assoluto allora in tutte queste esperienze c'era da un lato il mandato imperativo per cui nella Costituzione comunale di Parigi chi veniva eletto doveva rendere conto ai propri elettori di quello che faceva e doveva rispettare il mandato che questi gli avevano dato se gli avevano eletto per essere contro la TAV doveva essere contro la TAV non è, faccio un esempio ovviamente antistorico non è che come è successo da noi poi una volta eletto in Consiglio Comunale o al Parlamento il rappresentante anti TAV diventa pro TAV e nessuno gli può fare niente questo principio elementare di controllo della rappresentanza esisteva in queste esperienze così come il diritto di revoca cioè se questo non veniva rispettato la maggioranza più uno o comunque un numero di elettori di quel collegio poteva chiedere la revoca del rappresentante chiaro che questo crea un problema in alcuni casi viene addirittura proposto il sorteggio ovviamente non è che questo possa essere generalizzato ma facciamo l'esempio di situazioni in cui si suppone che non so, per esempio quella universitaria una commissione universitaria potrebbe benissimo essere nominata in un concorso per sorteggio assoluto non si vede perché no, visto che in teoria sono tutti di pari livello quelli che farebbero parte di queste commissioni dunque perché stabilirlo attraverso le clientele e non per sorteggio sarebbe molto più democratico il sorteggio l'altro aspetto però molto importante è che tutte queste esperienze hanno una base federale ovviamente noi del federalismo abbiamo una visione distorta perché c'è stata una rivoluzione passiva in Italia che si è appropriata come di tante altre cose nate negli anni 60 e 70 di parole d'ordine della sinistra insorgenti che allora lo erano se ne sono appropriate, ne hanno distorte ne hanno fatto un uso per certi aspetti in fausto quindi noi quando diciamo la parola federalismo come quando diciamo la parola socialismo abbiamo un movimento come dire ci si accappona la pelle però bisognerebbe riprendere il significato originario ora in queste esperienze la necessità di una concezione federale era associata all'idea che i rappresentanti dovessero essere controllati dai rappresentati e questo è possibile solo in una struttura federale perché è nel luogo, nell'unità territoriale relativamente ristretta come diceva Jefferson per le repubbliche elementari americane che si può creare un rapporto di conoscenza diretta fra il rappresentante e il rappresentato poi è chiaro che ci sono meccanismi di delega successivi ma ad ogni passo colui che viene eletto deve essere personalmente conosciuto valutato e controllato da quelli che lo eleggono questa suppone non una struttura gerarchica verticale elitista della società ma una struttura orizzontale federale della società queste, ripeto, sono esperienze che ci sono state hanno funzionato, poco perché sono state per lo più sconfitte sul piano militare devo dire che tutte queste esperienze non sono crollate per incapacità propria ma perché si sono dimostrate incapaci di reggere sul piano militare a una controffensiva delle forze più reazionarie di quei momenti sociali che le hanno distrutte perché le hanno individuate come un pericolo terrificante da evitare a ogni costo per i poteri costituiti quindi io più di questo non posso dire dico che bisognerebbe studiare queste esperienze e cercare di capire come alcune di queste esperienze potrebbero forse essere riutilizzate oggi per darci embrioni di alternative politiche grazie 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 grazie